Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo Aperistoria. Avete qualcosa di fresco? Avete qualcosa di analcolico, dato che è mezzogiorno? Se invece la vedete un po' più tardi, potete valutare della vodka, perché la storia di oggi ci porterà in Russia. Ci porterà in Russia nel luglio del 1944. In quei mesi si stava combattendo, in Unione Sovietica, in realtà in Bielorussia, negli Stati Baltici, nella parte più orientale della Polonia, quella che è passata alla storia come la più grande battaglia sconosciuta della Seconda Guerra Mondiale, cioè l'operazione Bagration. Ora, dell'operazione Bagration ho già parlato nella serie sulla Seconda Guerra Mondiale, vi metto in descrizione la playlist, ma vi basti sapere che un'operazione gigantesca, combattuta negli stessi giorni dello sbarco in Normandia, e proprio per questo forse un po' dimenticata normalmente quando si parla della Seconda Guerra Mondiale, un'operazione gigantesca che però permise ai sovietici di letteralmente frantumare il fronte tedesco, permettendogli in pochi mesi di riprendere il controllo di un territorio immenso, dagli Stati Baltici, la Bielorussia, ve lo faccio vedere qua nell'immagine, e di spingersi fino in Polonia. Fu una vittoria letteralmente epocale, che avvenne in tempi molto rapidi, e che permise ai tedeschi e ai sovietici non solo di annientare completamente il gruppo di armate nord nazista, di arrivare veramente fino in Polonia, ma anche di prendere una grandissima quantità di prigionieri, un po' come avveniva a parti invertite nel 1941, quando i tedeschi avanzavano rapidamente nel fronte sovietico. Che cosa fare di questi tedeschi? Beh, a qualcuno, probabilmente a Stati nei suoi ministri, venne un'idea, trasformarli nella più gigantesca opera di propaganda della Seconda Guerra Mondiale. Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio del 1944, i tedeschi iniziarono ad essere trasferiti. Venivano selezionati quei prigionieri che sembravano essere più in salute, che non erano magari feriti, o che comunque erano in grado di affrontare ancora parecchia fatica, venivano selezionati, caricati su dei treni e portati verso Mosca, nel silenzio più totale. Di tutta questa operazione, inizialmente sapevano pochissimi, sapeva qualche ministro, sapeva qualche politico, addirittura molti comandanti al fronte non sapevano che cosa ne sarebbe stato di quegli uomini, e ovviamente non sapevano nulla i soldati tedeschi. Venivano trasferiti, venivano portati a Mosca, nascondendoli dalla popolazione, e per nasconderli vennero accatastati all'interno dello stadio della Dinamo e nello spazio intorno. È facile immaginare che quegli uomini a questo punto fossero letteralmente terrorizzati. Che cosa potevano fare i russi portandoli lì? Metterli tutti insieme per eliminarli? Magari eliminarli col gas? O bombardare lo stadio per eliminarli tutti e 60.000, perché erano 60.000 uomini? E invece i sovietici si comportarono diversamente. Iniziarono a visitarli, iniziarono a portar loro del cibo, dell'acqua, li rifocillarono, li fecero rimettere in salute, ma vietarono loro espressamente di cambiarsi d'abito o di lavarsi. Quegli uomini dovevano essere in salute, ma dovevano essere sporchi, dovevano essere un esercito forte, ma sconfitto. Per fare cosa? Beh, per fare una sfilata. Al mattino del 7 luglio del 1944, la radio a Mosca, ma anche gli autoparlanti, che negli anni precedenti avevano diffuso notizie della guerra, avevano spinto la popolazione a resistere quando i tedeschi erano stati ad un passo nella capitale tra il 1941 e il 1942, iniziarono a diffondere notizie diverse. Iniziarono a diffondere la notizia che quel giorno ci sarebbe stata in città una gigantesca parata che 60.000 soldati tedeschi avrebbero marciato attraverso la città a mostrare visivamente la sconfitta che l'esercito nemico stava subendo. La popolazione di Mosca ovviamente accorse in gran numero. Il desiderio di vedere questi nemici doveva essere tanto, il desiderio di vedere le facce di coloro che da così tanto tempo combattevano contro i sovietici doveva essere forte. Così fin dalle prime ore del mattino si crearono lungo tutto il percorso due grandi ali di folla. Di questi avvenimenti esistono dei filmati. Uno ve lo metto in descrizione, si trova su YouTube. È un breve filmato di due minuti che però mostra esattamente che cosa stava succedendo. È ovviamente un filmato di propaganda ma è molto molto interessante. A vedere quel video i sovietici si erano organizzati bene. Avevano messo ordinatamente i soldati, davanti i 18 generali, poi i colonnelli, dietro di loro un migliaio di ufficiali e ancora dietro 59.000 uomini, organizzati, costretti a marciare in file ordinate in gruppi di circa 600. Tra di loro qualche soldato sovietico a cavallo. Quasi come a voler dire che quel gruppo di uomini ormai sconfitto era talmente abbattuto, talmente incapace di combattere ancora, che non serviva alcun controllo. Ovviamente non era così, perché quelli erano i soldati visibili, ma c'erano molti altri soldati, e anche ovviamente agenti segreti, sparsi tra la folla, pronti a intervenire qualora fosse successo qualcosa. Le focce di quei soldati che si vedono nel video ovviamente esprimono la più grande varietà di sentimenti. C'è chi è spaesato, chi è palesemente in atteggiamento di sfida verso quello che dopo tutto era un nemico, chi invece è spaventato, chi si guarda intorno, sembra quasi di vedere dei turisti, chi è palesemente l'immagine della sconfitta, e chi sta subendo quella che ha tutti gli effetti una grandissima umiliazione. I nazisti vennero costretti, i tedeschi, vennero costretti a sfilare attraverso quasi tutta Mosca, circondati da due ali di folla. Due ali di folla che, e questo lo raccontano i reduci tedeschi, quindi possiamo prenderlo per vero, si comportarono in maniera abbastanza corretta, certo insultarono i nazisti, gli lanciarono sputi, ma ogni volta che qualcuno cercava di avvicinarsi a loro per colpirli, o prendeva delle pietre pronte a lanciargli l'icontro e veniva fermato dal resto della folla o magari da qualche agente di incognito lì in mezzo. L'obiettivo era mostrare la vittoria, non trasformare quell'avvenimento in una nuova carneficina. Si voleva mostrare un'Unione Sovietica vittoriosa, non un'Unione Sovietica vendicativa. Una volta che tutti i tedeschi furono passati, dietro di loro passarono dei camion, che sparsero acqua e sapone a pulire le strade, come a voler dire di voler cancellare completamente anche il ricordo del loro passaggio. Qualcuno disse che quelli erano gli unici tedeschi che erano riusciti veramente a sfilare a Mosca. Quando la notizia rimbalzò nel resto del mondo, ovviamente dal punto di vista propagandistico, fu incredibile, e a Berlino si infuriarono tantissimo, la presero come un'umiliazione, la presero come una sfida, e nei giorni successivi organizzarono una loro parata, una loro contromanovra propagandistica, organizzata a Parigi, dove vennero costretti a sfilare, tirati fuori in fretta e furia dai campi, prigionieri inglesi, prigionieri americani, prigionieri russi, in una sfilata che però, per numeri, non si avvicinò neanche lontanamente a quanto fatto dai sovietici, ma che soprattutto li vide sfilare tra due ali di folla, molto più ristretta, e soprattutto di diversa provenienza rispetto a quella sovietica, nel senso che se i sovietici erano effettivamente partecipi all'evento, la maggior parte dei francesi portati in quelle strade erano stati portati lì con la forza, e in nessun modo attaccavano coloro che sfilavano davanti a loro, tranne ovviamente alcuni collaborazionisti. Queste due situazioni non fecero che acuire ancora di più la differenza, non fecero che mostrare ancora di più al mondo come ormai il Lasse, il Terzo Rai, che fosse pronto allo sfaldamento. Dopotutto, l'operazione Bagrationa Este e a Ovest, lo sbarco in Normandia, stavano accelerando la fine della guerra. Appena un mese dopo la controsfilata, Parigi sarà liberata, e gran parte di quei prigionieri saranno poi liberati nei vari campi di prigionia. Per la Germania stava ormai scoccando l'ultima ora. I prigionieri tedeschi, però, quelli che avevano sfilato a Mosca, ovviamente, una volta finita la sfilata, tornarono a chiedersi che cosa ne sarebbe stato di loro. I russi fino a quel momento li avevano trattati bene, li avevano rifocillati, forse che questo avrebbe potuto continuare? Ovviamente non fu così. La maggior parte di loro, così come i loro compagni, venne spedita nei Gulag, a Este, vennero spinti, portati in campi di prigionia, campi di lavoro durissimi, e molti di loro li morirono. Gli altri tornaronosi in Germania, ma solo a distanza di molti anni, anche dalla fine della guerra. Purtroppo, come sempre, anche dietro qualunque storia, quando si parla di guerra, c'è sempre un angolo di orrore e di oscurità. Bene, purtroppo su internet non ho trovato, come si dica, salute in russo. Ho solo trovato come non si dice, ma viene detto in tutti i film di Hollywood. Dato che io sono ignorante, e ripeto, non ho trovato niente, faremo come nei film, leveremo i calici. E nazrovia!